ciao la mia buona notizia è che fuori da casa mia tutti i giorni dalla mattina fino all'imbrunire in qualsiasi condizione meteo sento gli uccellini cantare ed è una cosa che mi riconcilia con tutto è molto bello perché mi permette di connettermi alla natura anche quando magari ci sono momenti in cui siamo un po più distratti e la trovo una bella cosa